Francesco Zampano torna al Pescara. A darne l'annuncio è stato lo stesso giocatore che ieri sera ha concluso il suo post su Facebook così era impossibile rifiutare un ritorno in questa città. In fondo, io e il Pescara abbiamo lo stesso obiettivo, la Serie A, prendiamocela. È stato il coronamento di una giornata molto proficua per gli uomini mercato del Pescara, col DG Giorgio Repetto, che in realtà ha chiuso una triplice operazione con il Verona. Francesco Zampano infatti indosserà di nuovo la maglia del Pescara e lo farà da giocatori il cui cartellino è stato acquistato a titolo definitivo dal Delfino. L'accordo è stato agevolato anche dall'arrivo a Verona dell'esterno brasiliano Wink. In bianca azzurra arrivano anche il 22enne fantasista e figlio d'arte Mattia Valoti e il centravanti 19enne Pierluigi Cappelluzzo. Per i due giocatori l'intesa col Verona è stata trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto che permetterà al Pescara di incamerare una sorta di valorizzazione qualora i giocatori facciano bene alla corte di Massimo Oddo che da quest'operazione ottiene quel martello di fascia che è stato Zampano specie nell'ultima parte di stagione ma anche un giocatore come Valoti di indiscusse qualità tecniche strappato ad un'ampia concorrenza. I giocatori saranno a disposizione per l'intera seconda parte del ritiro precampionato che si svolgerà a Cingoli nel Maceratese da oggi pomeriggio e fino al 31 luglio. Due lamichevoli previste nel centro marchigiano, la prima sabato alle 17 contro l'Area Canatese e non più con l'Arezzo come inizialmente comunicato. La seconda è il 30 luglio, sempre alle 17 contro la Maceratese. Sempre ieri c'è stato il sorteggio di Team Cup. Il 9 agosto i Biancazzurri ospiteranno all'adretico Cornacchia la vincente della gara del 2 agosto tra Matera e Sud Tirol. In paglio il match del terzo turno previsto a Ferragosto in casa del Torino.